Scendono da 10 a 6 i candidati sindaco per il Comune di Roma del Movimento 5 Stelle. Gli altri 4 non hanno dato disponibilità. In corsa tre consiglieri comunali, Marcello De Vito, Virginia Raggi e Enrico Stefano, una studentessa universitaria, un dipendente pubblico e un ex consigliere pentastellato nel municipio di Ostia. L'ultima votazione online, che incoronerà il candidato sindaco, si dovrebbe tenere la prossima settimana. Sia a Roma sia in tutta Italia noi abbiamo dato l'esempio di democrazia partecipata e trasparente. Un esempio che si pone in contrasto con quello che hanno fatto gli altri partiti, che litiga e hanno distrutto il paese negli ultimi 30 anni. Noi abbiamo dimostrato invece con trasparenza che i cittadini possono partecipare alla scelta dei candidati e siamo la vera e unica alternativa concreta per risvegliare Roma. In poll, De Vito, già candidato al Campidoglio nel 2013, e Virginia Raggi. L'abbiamo spiegato mille volte, non è il nostro metodo quello di mettere un uomo noto per poter ricevere le simpatie della cittadinanza, ma presentiamo una squadra, presentiamo un programma. Crediamo che i ragazzi che oggi sono stati in conferenza stampa dimostrano tutta la diversità di come il Movimento 5 Stelle vuole governare Roma. Lo vuole governare con una squadra. Siamo preparati, ci sono i consiglieri uscenti che hanno fatto un ottimo lavoro nelle amministrazioni, quindi per noi continuiamo ad andare avanti convinti che questo sia il metodo giusto. Continuano invece le polemiche nel centrodestra. Dopo un primo scontro con Francesco Storace, Guido Bertolaso finisce nel mirino del leader della Lega, che approfittando di una conferenza stampa per annunciare la marcia del 25 aprile contro il governo, lancia la sua stoccata. Di fronte al rischio che la coalizione possa saltare non solo nella capitale, l'ex premier decide di chiamare il leader del carroccio per tentare di raggiungere un'intesa. Se salta Bertolaso, è stato il ragionamento, non solo tutto viene rimesso in discussione, ma ne usciremo danneggiati come immagine. Non ci spostiamo da Bertolaso, ha poi ribadito Berlusconi, confermando anche la scelta, oltre che di Parisi a Milano, di Osvaldo Napoli a Torino e di Gianni Lettieri a Napoli. La situazione, insomma, è tutt'altro che semplice e la tregua siglata dai tre leader ha come deadline la riunione di mercoledì prossimo della Commissione Calderoli a cui partecipano gli ambasciatori di tutte e tre i partiti. Se prima di allora si riuscirà a trovare un compromesso che consenta di siglare l'accordo, la Commissione ufficializzerà le candidature. In caso contrario, i tempi potrebbero allungarsi eccessivamente, con il rischio che le strade si separino definitivamente.